Ok ragazzi siamo tornati su Isaac finalmente, nel nascorso episodio abbiamo usato un nuovo personaggio e abbiamo addirittura fatto il boss finale che era il cuore della madre Quindi ora se facciamo il new run, ok avevamo usato questo, ok, ora possiamo usare questo Che fa questo qui non lo so, ah non si può? Non si può Non si può Non si può, non si può, non si può, oddio, ah sì questa è quella che avevamo sbloccato Nello scorso episodio alla fine, oddio ma sono lentissimo cazzo, non so cosa fa con la bibbia che ho là, sinceramente, vabbè però andiamo Eh no, a questo punto ho la bibbia che fa, soul protection Non ho capito cosa fa, si protegge Ah si ricarica Boh usiamo questo, non so perché non so cosa sia Oddio non lo so, boh, vabbè Cazzo cazzo Ma sono lentissimo ragazzi Ma sono lentissimo ragazzi A sparare, però l'ho ammazzato in due colpi, c'è da dire Ah minchia sono lentissimo ma sono fortissimo anche Sì, apriamo qua Vabbè non si può Non si può fare nulla, ok Sì, ma le cacche che le rompo sempre in due colpi non è giusto però Vabbè, ok andiamo Cazzo Ok, vai Non so che fa Famine, ok Questo è uscito anche nello scorso episodio Oh ma le morì però No Ok Minchia però sono fortissimo con quest'arma Cioè faccio un sacco di danni Guardate, è già morto Ok, questa cosa è? Go, vabbè andiamo Vai, ok Che il boss sta Tra altre Sette stanze Minchia Ok Basement 1 Subito il boss, oh mio dio Si va subito? Raga sto appunto tryhardiamo C'è il tryhard Come cazzo fa? Tryhardiamo Nel senso Andiamo subito alla fine Lasciamo volevo dire Se ne frega Voglio dire subito il boss Ok che si possono trovare delle robe però Aia, aia Ok Che raga speed run world record Ok damage più range up Addirittura Già facevo tanto danno No, non mi va di spendere un core Non mi va, non mi va Ok vai Basement 2 è durato una stanza Cioè Ok Il bello è che questo è Isaac con i capelli Mi piace da di Ok No, te non ti tocco minimamente Quelli che piangono Là che spilt Dai Guarda quanto so forte C'è lì shot Lì shot Cazzo non posso Stanza vuota Stanza vuota Stanza vuota Bastardo queste che sono a due Addirittura Dai Ok Ok Aspetta che ricaricarsi Ok vabbè non mi serve a nulla Vai Andiamo a sinistra Ho un'altra stanza vuota Ho un'altra stanza vuota Che sfiga Ok Sto ne stiamo a capire un po' Il pattern delle Delle stanze Perché tipo Stanza mi è già uscita uguale Un'altra volta Anche altre stanze che ho trovato Quindi diciamo che Non è totalmente Sempre a random Tipo anche questo Se non sbaglio Con i tre Con i tre Scheletri Minchia Lì shot In un colpo E porca puttana però Dai siete stronzi Cos'è Non so che cazzo fa Oddio No Non c'ho chiave Eh ma la strana Le spin Per due palle No Che fai Ah tu Ti attivi dopo È vero Dai rompiti Oh Bastardo Un altro colpo Dai ti prego Dai Fanculo Ho anche aspettato Che si caricasse Ok Andiamo qua Ah grande La L'amica mia Ok Comunque si vede Che sono migliorato molto Rispetto agli altri episodi Perché vado molto più spedito Che ho capito Un sacco di cose in più Ok il boss Andiamo a farlo Che questo non so se l'ho mai fatto Mi sa di no Cazzarola Oddio no l'ho fatto Questo è un tumore Questo non lo ricordo Che è un cancro Che fai Ok 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 No Io non so quanto mi toglie Quando mi prende in bocca Perché No Che non mi ha mai preso Soprattutto almeno Anche perché Che range è molto C'è la hitbox Di questa nemica È molto particolare Che cool Ok Vabbè non posso prenderli Sicuri Questo cos'è Ultimate Grand Oh grazie Tanti soldini Ok andiamo oltre Dai 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 che stiamo Andando col turbante Ok Oddio ho sbloccato Questo Eve Perché Vabbè ok Non so se è un personaggio Se è un personaggio Boh Vabbè Se è un personaggio Vediamo se riusciamo a farlo In questo episodio Anche Ok No Che bastardo Questo nemico Ok Oh grande Chiave Quello che mi serviva Ok È mio amico Attack buddy Sì Buddy Che carino C'era la corona Una Cazzo No 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 C'è uno dei cuori in giro Per caso Ah grazie Però Vado a vedere se c'è uno dei cuori in giro Che ho lasciato Sì qua Ok good Perfetto Andiamo sopra No Che siete veramente bastardi Sti ragni Sti del cazzo Ahia Non ti avevo visto Amigamente Ok Prendiamo il cuoricino Ah cazzo Là c'è il bo Oddio Sta cassa Sta chiave Volevo dire Eh ma non si può prendere Purtroppo Vai andiamo Good deal Ok questo mi ricordo Bisogna stare lì sotto Qua Se non rompe queste pustole No Grande che fate danno Ragazzi Questi non davano tipo Dei cuori Quando le rompevi No Vai Se mi ricordo Quando faceva così Devi andare so Vai Ok Questa è ancora Una cazzata Sto boss Sì vabbè Certe volte Evocarsi Zanzale di merda Qua Eh sì ma muori Però Ok vedi Una cazzata Ok che siamo Overpower Tutte le statistiche App Grande Eh ma Sono sempre lento Però Oddio Questa è la stanza Quella che se sbaglio Prendi il cazzo Quella Sinistra No Vabbè Prendi il cazzo Fino a un certo punto Ah cazzo Non può No Che cazzo Ok Vabbè Non capite Vabbè andiamo Ok Stiamo veramente Andando col turban Sono contento Stiamo andando benissimo Ho avuto un sacco di culo Ok che forse anche questo Questo personaggio Pi Che siamo Nelle Nelle depths Ah ma i ranni Sono miei amici Grande Grande Ok No 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 Ma è qua Nelle depths Ovviamente Venite I nemici Tumoral Dai Ok Fini Ah no Manca lui Grazie Un altro cuorecino Perché no Vabbè adesso Volentieri Cacca di merda Cioè Tutti i sensi Ok No 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 Ma perché Siccome ho tanti amici Intorno a me Mi confondo Perché li scambio Per gli avversari Amore Stanno ancora Merda in giro No Ok Dai raga Basta Ragazzi Basta Dai Ok La mia Non è Niente Giusta Ahia Che cazzo È Sei da Anzare Di merda Qua No No Perché Questo è Uno stronzo Incazzato Più grande Ah Minchia Due stronzi Che si fa Ma si è bastardo Eh Ok Chiave No Oh Non l'avevo vista Ok Boh Che cazzo Ho fatto Ho sbagliato Non volevo usare L'oggetto Beh Non l'avrei usato Comunque a prescinde Perché ho troppa Paura di quelle pillole Ok Siamo Andrata E qua No Ok Vai su Vabbè Sì Questi Mi danno So Puttanata Ste cose Ok Che cazzo Ah cazzo C'è il fuoco Che mi spara Sì ma ho perso I cuoricini Speciali Vabbè No No Ok Ah manca lui Ragazzi Non si capisce C'è Si confondono I nemici Ah è aperta Sta porta Grande Cosa Oh cazzo Ah ma forse Qua si combatte Sempre Tipo Ok 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 Kaiser Kaiser No Ancora Chiave Grande E cosa Che è Questa It's a box Of spider Usiamo A questo punto E prendiamoci Questo Se lo so Che dopo Mogl No Vabbè C'è un bastardo Però C'è che ci sono Fuori in giro Che fa I can see forever Grazie Ci sono Fuori in giro No Tipo Qua 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 sta Uno E qua Sta L'altro In teoria Esattamente Ok Andiamo sopra Oh Pipistrella Usse Grande Oh Fuori HP HP Up Grazie Grazie Vabbè Sì Bella L'iconcina Che era Soltanto Un cuore Praticamente Allora No Allora Di cosa è andato Tocca andare giù Tocca andare giù Vai Vai Oh Però Questi qua Un po' Ne sono Sul cazzo Eh lo sapevo Che non è la finita Qua la roba Che grazie Qua si può andare No Questo è un po' Un bastardello Abbiamo sbloccato Un altro Il libro Dei peccati Apparso Nel basement Oddio Le cose costano Sono scontate Del 50% Adesso Grazie 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 Vediamo se qua sotto C'è il boss No 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 Eccolo C'è un bastardo Però Ok No Ok E' il boss Ci sono dei cuori In giro Sì Ne sta uno Qua Ah no Qua non posso prenderlo Beh Lì War Questo non l'ho mai incontrato Non capisco Se questi Oh cazzo Dicevo Non capisco Se questi boss Nuovi Stanno Perché cambiano Il personaggio Perché se mi c'entrano Sono più Difficile Da trovare Oddio Metà vita Scoppe Diventa questo Madonna Deve lo sa Che fai Oh Ahiaia Bastardo Ok Fanculo Va E me vuole il cuoricino Ok Vai Ok Non so che appunto Siamo Sinceramente Basement Depth 2 Forse Dai No Perca puttana Ok Eh dai Però lo sapevo Cosa succede qualcuno Non c'è niente dentro No 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 Grazie Chiave Qua che sta No Lo stercone Morito subito Dai Serti Bravi Che bello Che ho questo range Incredibile Che meraviglia Che meraviglia E qua Cazzo Che fanculo Prende Ok Questa stanza è un po' Tumorale Questa pure mi sembra di averla già vista Adamo Moro Amor Dai Bastardo Ok L'ultimo L'ultimo pezzo Di merda Ok Che mi ha dato La pilloletta Che non so che fa Nel doppio Non la uso Qua non me ne frega Minimamente Nulla No Queste esplodono Olo nero Mi sa che esploda Eh lo sapevo io Vedi Ok Non ci sono ancora in giro Proviamo a usarlo Buono Non ha fatto nulla Non sa Là c'era un cuore Qua Andiamo a vedere Ma che non mi ricordo Qua Dice Ah si è vero Aspettiamo Grazie mille Gioca Ok Cosa è quella Cosa Alla Ah una porta Chiusa Ah lo shop Sono scontate Le cose Penso Prendiamole Cos'è questo punto Interrogativo Your friends rule Ah mi ha dato Un amico Mi sa Grazie Eh doniamo Ok 14 Grande Perfetto Andiamo giù No Questa è stanza Veramente Bastarda Questa è stanza Bastarda Dove Ok Vaffanculo Non so Ma come cazzo Ho fatto a resistere Senza Cioè Non ho preso Dan Ok Deve andare sopra No Bastarda Di una troia Di merda Ok Vaffanculo Va Madre di merda Vai E non c'è mura Sta puttene Ok Dai vai Andiamo sopra Sembra più safe Invece è il cazzo Ok Magari Veramente più safe Grazie Ragazzi Da dovevate Vabbè Queste non fanno nulla Cioè Cioè Girano E basta Così Non attacca Non lo sparo Non mi fanno nulla Ok Qua Possiamo andare Con qua Ah un altro Punto interrogativo The poop Plop Vabbè Usiamo la merda Dai Teniamoci la merda Andiamo lì qua No Un boss Oh Madonna Che fai Che casino Che casino Le cose che lanciano Esplodono Eh ma muori però No Dai Ok bra Cuori No Patroia Dai dai Ti prego il boss Voglio Cazzo Questa roba Arcade Vabbè Non c'è nulla Qua Sti cazzo Andiamo Via 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 No E lo sapevo io Che c'erano due Di male Di sta Puttana Questa Dove cazzo Mi ha portato Sopra Devo tornare Cosa fa questo Pretty fly Grazie Ok Di nuovo Stai Se troia Oh tre Quattro La maratona Fatta Ok Grazie per il cuoricino In più Vai Ah la mamma Cazzo 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 No Troia 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 No Bastarda Volevi eh Vaffanculo Va Vaffanculo Speed up Ok Oddio Ha aperto Oddio Che cazzo È No 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 Ragazzi No Chi cazzo Sei Chi cazzo Sei Ok Mi sono ammazzati Tutti Queste È una boss Fight Incredibile Ho preso Il cazzo Non lo sa Ho sbagliato Punti Drogati Io Dai Dai No No Escono di nuovo Gli altri Porca puttana A meno che Cioè almeno Ma non Che nemici Cioè questi qua Non l'abbiamo mai visto Abbiamo Ma che schifo Che schifo Vabbè questa è un'altra Versione del Verme Sperando che ci danno Dei potenziamenti Incredibili Ti contiene Non ho dato un cuore Va bene Dai Entrebbe bene Una cosa Che mi fa Sparare Più velocemente Sinceramente Ah ma Devo solpirlo Dietro Ok L'ho capito Sola adesso Dai Dai Ahia Che cazzo è mia Che mi ha fatto male Ok Ancora non è finita C'è lì Il pifo Là No dai Poveretto Il pifo è morto Pacell'animale Ma queste merda Qua che cosa mi danno Non lo so Aiuto Aiuto Sti cazzo Di occhi Non so se è l'occhi In realtà Un mio amico No ma non è un mio amico Perché apparte solo adesso Non si sta capendo Più un cazzo Ve lo dico Non so Non capire più nulla Quando finisce Sta battaglia Ragazzi Ancora NGESPOOC Ma tutti i boss Del gioco Stanno qua dentro Non lo so E dai Raga E dai Raga E dai Raga E dai Raga Non ce la faccio più Ma che cazzo è Che mi punge Ma mi sa che sono Quello esterco Di merda Là Dai che ho perso I cuori Gesù bambino E' talmente pieno Di sangue Sta cosa Che non si capisce Un cazzo Ok Si è diviso In due Ah Poi esce il verme Da dentro Giustamente Si ma basta Dove cazzo è Quello Nel cazzo Ah qua ne sono altri Dai basta 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 Dove si Diavoletto Nel cazzo Stop Stop Basta 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 Vabbè Questo è come Quel boss Sono tanti Reskin Ma no Quelle merda Ricciudo Ok Stop 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 Ragazzi Non ce la faccio più Mannaggia a me Che sono entrati In questa stanza Tu mora Basta 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 Stop Cioè pure lui Cioè Pure il clown Aia Saranno altri Presumo A sto punto Vedi Non finiscono mai Non finiscono mai No 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 Chi è l'altro Chi è l'altro Alla sopra Ah Quello là Che spruzza Merda Eh ma Vede Oh Madò Vi giuro Questi stessi Capito Dimmi che è l'ultimo Questo Dimmi che è l'ultimo Dimmi che è l'ultimo No Vero Eh no Ovviamente Ma sono due slime Ma sono due slime Sì Sono due slime Madonna Santo Ma questi sono tipo tutti i boss del gioco possibili che ci possano essere Tutti qua dentro E basta E basta Ma vale che c'ho degli amici che mi stanno aiutando un po' Che sono veramente Maroi Stanno 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 delle cure Sì Qua Sì Allora un attimo di pausa Devo pizzicarmi il naso E Oh no Eccoci 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 Mori Sava un mezzo cuore Ecco Chi è? Mori Top Però ne saranno altri Eccoli Ma si può uscire in qualche modo? Bisogna effettivamente uccidere tutti Sembrano più fragili del normale O sbaglio Lo tipo del gioco mi sta potenziando man mano che faccio il boss Non so Ho un cuoricino Eh ma sei un bastardo che lo metti in là il cuoricino Su Devo fare così Devo fare Ok Ok Eh già l'ho perso Che l'ho perso? Ah perché c'ha la scia questo coglione E questo non mi conviene prenderli quelli Quelli là perché li prendo dopo a fine boss Oh Oh Donna santa Dai Ma questo chi è? Ah non si può colpire Deve ammazzare lui per prima Ok ma lui è morto Chi è l'altro scusami? È lui? Ma come si ammazza? Oh ma doi Ma si possono rompere No vedi Ricrescono Ricrescono per forza Dov'è? Dov'è? Eh no Niente Non sono altro Si è fatto esplodere Ma dai Mi ha bloccato la cazzo di cosa Che cazzo succede? No 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 Abbiamo perso un sacco di vite Sì un po' è morto Tu Pezzo di merda È quella che fa danno Stop Stop Ok non lo prendo quel cuore Lo lascio per giù Però ricordami che sta là però Devo ricordarmi che sta là Che cazzo è sta roba? Non lo so Ma non è lo sterco qua Ho messo uno sterco Che mi serve? È nulla Vabbè Ok Devo prendere il suo cuore qua Aia No 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 Devo prendere questo Perché si muore Si muore No no Le falci Le falci Le falci Le falci Aia Aia Muore Muore Ma do Dove siete? Dove siete? Pezzi Ristru Muore Sì che basta Non ce la sto facendo più No c'è pure lui De folle Quello che abbiamo incontrato In un altro video Ma questo ci fa il culo Ma questo Ma ci fa il culo No Il cavallo Ma che cazzo Sono sti posto È morito È morito Un po' È morito Un po' Si divide in due Pure Ma non c'ho vita Eh no Si muore Si muore Eh vedi Porca madonna Ho capito Ma Cristo Cioè che cazzo Di stanza è Vaffanculo Va Cioè che cazzo Stavo andando di lusso Vabbè ragazzi Niente Quest'episodio è andato così Stavo andando benissimo Che palle Che palle Che palle La prossima volta Non ci entro proprio qua Se mi capita Una cosa del genere Non ci entro Vaffanculo Scusami Vabbè E poi c'è l'episodio Che dobbiamo fare Abbiamo bloccato questo No che cosa Abbiamo bloccato Boh Non mi ricordo Questa Qual è quello che Abbiamo usato adesso Questo Ho sbaglio No Era Eden Tipo Dove sta Ma non c'è Eh questo Eden Tokens Non si può Cazzo Si può usare Solo una volta Porca puttana Eh niente Ragazzi Eh Possiamo Questa Eve Ok Ok ragazzi Sappiamo cosa fare Nel prossimo episodio Grazie a tutti Yeah Grazie a tutti Grazie.